Siamo qua a Bergamo per questo importante convegno sulla scuola digitale. Credo che quello che vediamo anche a Bergamo è che sta crescendo un grande fenomeno di innovazione della scuola, del modello scolastico. Io credo che la scuola abbia piena consapevolezza di dover trasformare questo modello e che le tecnologie siano una leva importante, una grande occasione, una grande opportunità perché si possa trasformare il nostro modello scolastico. Quindi dobbiamo semplicemente fare, l'unione fa la forza, quindi dovremmo cercare di mettere insieme tutti questi fermenti, tutte queste iniziative, tutti questi filoni che concorrono tutti nella stessa direzione. Però magari muovendosi separatamente non hanno la forza necessaria per rompere il guscio che avvolge la più grande azienda del paese che è la scuola e che inevitabilmente ha una grande inerzialità.